Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ci vogliono 5 positive Per rinviare le partite Qualcuna addirittura si è ritrovata in difficoltà Perché ne aveva soltanto 3 A una rosa di 15 giocatrici È un po' diciamo un casino È un po' una confusione Confusione totale Ci sono un po' infatti Come hai detto tu ci sono davvero squadre con rose e poche Il Caprera recentemente l'ho vista proprio con tre ragazzi in panchina Ad ogni partita Facciamo un passo indietro Era addirittura andato a giocare in 11 domenica scorsa Quindi è un po' un problema E io lo seguivo a tutte le partite Al che la società di appartenenza Dove giocava mio fratello Mi chiese in tutti i modi di iniziare Quindi iniziai con i maschietti Ho giocato 5 anni con i maschietti Dopodiché sono passata agli Anador Quando c'era la Serie A E ho fatto un bel percorso Sono contenta della mia carriera Tra virgolette da calciatrice Ovvio che quando ho iniziato io Non c'erano tutte queste fortune Queste situazioni Queste squadre professionistiche Che si avvicinavano al femminile Quindi la situazione per giocare era difficile La cosa importante è stato sempre il supporto dei miei genitori E ancora oggi molte ragazze magari non giocano Perché i genitori sono un po' scettici Sul calcio femminile E diciamo che oggi c'è stata un'evoluzione importante E speriamo che si vada avanti così E si arrivi veramente concretamente al professionismo Tra l'altro tu hai vinto anche due Coppa Italia Nella tua carriera Una con la Regione e una col Tavagnacco Ti posso chiedere anche un ricordo Di questi due trofei alzati al cielo? Sì Sono dei bei ricordi A Reggio Una squadra molto giovane Nessuno ci avrebbe scommesso Su di noi Invece arrivamo quarta in classifica E tutti presumevano che noi lottavamo per la salvezza E poi il coronamento con questa Coppa Italia Mentre a Tavagnacco avevamo Invece una squadra diciamo stratosferica Sulla carta ci davano Per il triplete Invece poi siamo riusciti soltanto a vincere La Coppa Italia purtroppo E poi aggiungo anche una Coppa Italia con il calcio a 5 Ho avuto una stagione Nella Serie A Elite Quindi sì Sono diciamo la ragazza delle Coppe Italia Campionato Porti fortuna Sono riuscita a vincere Tranne due con la primavera Poi il resto dai Però mi sono divertita dai Invece adesso sei la lucchese Sei arrivata quest'estate Tra l'altro ci mancava un attimo da un po' Una squadra a lucca femminile C'era stato di mezzo un po' il filecchio La squadra un po' più vicina Adesso invece è tornata proprio la lucchese Che ha preso il titolo sportivo proprio del filecchio Vi raccontare un po' come sei arrivata in questa squadra Vestire questi colori e colori e le ambizioni del club Allora diciamo che Ho giocato quattro anni a Ponte d'Era E la mia intenzione inizialmente era quella di smettere Perché io oltre a giocare alleno Quindi volevo dedicarmi soltanto a A portare avanti questa mansione Diciamo che per me è una passione Che va oltre ogni limite Poi la lucchese Diciamo che nascendo quest'anno Come dicevi te prima Mi ha chiesto una mano un po' da calciatrice Quindi mi ha detto dai Dacci una mano per il primo anno E dopo piano piano Diciamo ti lasceremo andare E farai quello che vuoi E quindi mi hanno convinto E ho intrapreso quest'annata E niente Mi sto divertendo dai Ti volevo chiedere Un po' forse hai risposto anche prima Qual è stata la stagione L'episodio Quello che ti ha un po' più segnato Positivamente Che ricordi con più piacere In questa tua lunga carriera Ma diciamo che ho diversi ricordi Intanto Diciamo che L'esordio in Serie A A soli 16 anni Per me è un ricordo importante Da lì poi ho iniziato Tutto l'escalation Tutta la carriera Diciamo che ero molto giovane Sono riuscita a trovare spazio subito Quindi ho dei bei ricordi Di quelle annate Poi i ricordi belli Come dicevo prima Sono le Coppe Italia L'esperienza al futsal Però diciamo che Nel mio percorso Ogni annata Mi ha lasciato qualcosa Probabilmente l'annata più bella È stata l'ultima A Firenze Proprio l'anno dell'acquisizione Del titolo Della Fiorentina Dove anche lì Avevamo una squadra molto giovane Costruita all'ultimo Ci davano anche lì Per diciamo retrocessi Invece siamo riusciti ad arrivare Quarte Diciamo che è stata un'annata importante Con il mister Saurofattori Che ricordo ben volentieri Lo sento spesso Diciamo che Dai è stata una Delle annate più belle Della mia carriera Assolutamente No Poi Ti volevo appunto chiedere Anche Magari come aiuti Le ragazze più giovani Tramite diciamo Tua esperienza C'è qualche consiglio Particolare Qualche cosa che le dici Per aiutarle nella crescita Ma diciamo che Per loro sono un po' L'allenatrice in campo Mi chiedono sempre Dei consigli Sia tecnico Tattici Che Diciamo Sotto tutti i punti di vista E di questo ne sono orgogliosa Quindi Mi sento la fiducia Delle ragazze E questo mi fa ben sperare Un giorno di poter allenare Insomma Ragazze di questa età E anche più grandi E sono contenta Dai Mi hai semplicemente risposto A una domanda Che ti hai voluto fare Sulla tua prosecuzione Diciamo Da carriera Dall'allenatrice Quindi La domanda era Se avresti voluto continuare Ma immagino Quindi Hai appena risposto di sì E No Ti volevo chiedere Quindi diciamo Sulla Sulla stagione attuale No Sì Qual è il vero Obiettivo Di questa lucchese Ti volevo chiedere E poi Anche un po' Qualche parola Magari sul derby Di Con la Pistoiese Di Domenica Se non sbaglio Sì Allora L'obiettivo Di questa annata Diciamo Che Come ho detto prima È una nuova società È una squadra Nata Quest'estate Composta Da giocatrici Provenienti Da Una miriade Di società Quindi L'amalgama Diciamo Che Riusciamo Forse ora A trovarla Potenzialmente Secondo me Potevamo Fare molto di più Abbiamo perso Dei punti per strada Con squadre Abbordabili Invece abbiamo fatto Dei risultati Inaspettati Con Società Più blasonate Quindi Diciamo Coggio Buca Fa pari Però Secondo me Se tornassimo indietro Se tornassimo indietro Probabilmente Con più Un po' più di consapevolezza Non voglio esagerare Ma a quarto Quinto posto Potevamo Potevamo Conquistarlo Mentre Per quanto riguarda La partita Di domenica È un recupero Con la Pistogliese Non giocavamo Per via del covid Sia noi che loro Avevamo delle positive E Non è una partita Da sottovalutare In quanto In Coppa Italia Ci hanno fatto Un bello scherzetto Perdemmo 3 a 2 Da loro In un campo Difficile Abbiamo la fortuna Di giocare Su un sintetico Nuovo Che io conosco Una società Dove ho allenato Quando ero Un po' più giovane Allenavo i ragazzi Quindi Probabilmente Il campo grande Il campo sintetico Ci agevolerà Un pochino La vedo un po' così Dai Però Non è assolutamente Da prendere sotto gamba Anche perché Ultimamente Anche probabilmente Con il cambio Della guida tecnica Sono riusciti a fare Più punti E So che hanno Diverse infortunate Ma questo Non ci deve comunque Far pensare Che sia una partita Semplice Assolutamente Voglio chiederti un po' Comunque C'è stata la rivoluzione Sui gironi Che adesso da 4 Sono passati a 3 Comunque tu hai già vissuto Col Ponte d'Era Sono anche cambiate un po' Le squadre che si affrontano Prima Più o meno ogni anno Si affrontavano Più o meno le stesse squadre Quindi c'è il gruppo toscano Che adesso si è un po' scontrato Con il gruppo lombardo Principalmente In quest'anno Quindi vediamo Soprattutto al nord Arezzo Pinerolo Pavio Che si sono un po' scontrati I partiti inedite Volevo chiederti un po' Com'è anche affrontare Magari i partiti Che si è anche meno Abituati a giocare Ma Eravamo consapevoli Che questo girone Era Molto duro Però Secondo me Fa Fa bene Fa bene Giocare queste partite Soprattutto per le più giovani Per esempio Perché Per una società Con una squadra Come la nostra Formata anche da Elementi Del 2005 2006 Questo fa Tutta esperienza E Diciamo Una sorta di preparazione Per le annate Che verranno E È un girone duro E Però Divertente Allo stesso tempo Perché comunque Ogni domenica Come vediamo Ci sono risultati strani Quindi Non c'è niente per scontato Tranne Vabbè Un pochino le corazzate Le due corazzate davanti Con Arezzo Che secondo me Per la La rosa Che ha Dovrebbe stravolgere Questo campionato E il Pinerolo Invece che non demorde Continua Comunque Diciamo A far bene Hanno anche loro Tanti asterischi Quindi è ancora Tutto in gioco Diciamo Lì è tutto in gioco Comunque Confronto A Qualche anno fa Io anche l'anno scorso Facendo la bicola Il Ponte d'Era Il livello è cresciuto tantissimo E diciamo che La B Dell'anno scorso E di quest'anno Le possiamo paragonare Quasi a una serie A Di qualche anno fa E altrettanto La serie C La serie C È cresciuta tantissimo Ci sono delle squadre Importanti E Probabilmente Ora con l'arrivo Delle straniere Nei nostri campionati Tante ragazze Di categoria Scendono Per giocare Più che altro Per avere minutaggio Quindi Di conseguenza Si rinforzano Sia la B Che la C Priscila Innanzitutto Un vero piacere Grazie Un piacere mio Scusate Vi volevo ringraziare No Grazie a te Ci mancherebbe Prima hai parlato Insomma Di Firenze Che poi è diventata Fiorentina Quindi Automaticamente Mi viene in mente Di farti questa domanda La stagione La stagione di quest'anno Della Fiorentina È veramente Molto deludente Secondo te Cosa è successo Come mai Quest'anno La Fiorentina Sta andando così male Nonostante Sia una corazzata Perché insomma Le calciatrici più forti Si può dire Che giocano tutte Per la Fiorentina Ma Allora Io Dentro le dinamiche Sinceramente Non ci sono Ancora Tante ragazze Che sono lì Ci ho giocato insieme Vedi Tortelli Sabatino Quindi le conosco Però Solitamente Non vado A scendere Nei particolari Perché comunque Ritengo Che lo spogliatoio Sia sacro Però Diciamo che Ultimamente La Fiorentina Ha perso Dei pezzi importanti Che erano Dei pilastri Un po' Perché Comunque Vedi Guagni Voleva provare Un'esperienza importante È partita E ha fatto bene Anche perché Alia È sempre Rimasta a Firenze Avrà avuto sempre Tante proposte E diciamo Che ha sempre Onorato La maglia viola Di questo Io ne facciamo merito Però probabilmente Qualche esperienza In più Per lei Personalmente Avrebbe fatto Bene Diciamo Poi è partita Dami Insomma Sono partite Un po' Di Diciamo Di pilastri E ora È difficile Capire Ci sono Tanti giovani Nuove Probabilmente Anche lì Manca un po' Ancora l'amalgama Vediamo Ora magari Sto Con i due nuovi acquisti Che sono di spessore Magari Diciamo Che Con quel tocco Un più di esperienza Riescono a tirare fuori Qualche Punto in più Dai Diciamo così Però Sì Eravamo abituati A vedere La Fiorentina In palcoscenici Importanti Tipo la Champions Era un po' Che 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 manca Questa competizione Però dai Io penso Che la Fiorentina La società Fiorentina Stia investendo Tantissimo Sta Pensando A un progetto Importante E sono sicura Che includerà Il femminile In tutto ciò Perché E' importante Ricordare Che è stata La prima società Maschile Che ha voluto Fortemente Il femminile Quindi Sono fiduciosa Sono fiduciosa In questa società L'altra domanda Invece Te la faccio Inevitabilmente Sull'allenatrice Della Fiorentina Patrizia Panico Che forse Tu Conoscerei molto bene Non pensi Che magari Forse Un po' Di inesperienza E non riesce Non sta gestendo Questa Fiorentina Come dovrebbe Forse Dovrebbe fare Un'esperienza Dal basso Che ne pensi Allora Patrizia E' stata Una educatrice Importante L'ho sempre Incontrata Come avversaria E anche lei Era un po' L'allenatrice In campo Patrizia Essenzialmente E' partita Dal basso Anche perché Comunque Ha un curriculum Importante Avendo fatto Le nazionali Maschili Lei è stata Due o tre anni Le nazionali Maschili Quindi Parlo anche Personalmente Io Amo Stare Con il gruppo Maschile Perché Secondo me Al femminile Manca quello Che è proprio Come dicevi te Il settore giovanile Che è nato Da poco Per una Forzatura Della federazione Che ha imposto Al mondo Maschile Di avere Il femminile Per non Essere multati E grazie a questo Poi è arrivato Tutto il resto Però Anche Nei miei ricordi Io sono passata A 14 anni Giocavo in C E a 16 Giocavo in Serie A Erano tempi diversi Non abbiamo fatto Un percorso Di settore giovanile E quindi Anch'io Come allenatrice Ho detto Bene Faccio una Bella gavetta Con i ragazzi Ora sono 10 anni Che alleno E preferisco Parli nel maschile Perché faccio Un percorso Così un giorno Per vedere Se sono pronta E sono Diciamo Posso allenare Una squadra Importante Blasonata Come sta facendo Patrizia Secondo me Lei Il suo percorso L'ha fatto Certe volte Bisogna trovarsi Al posto giusto Nel momento giusto E Non saprei Non saprei Mi spiace Perché Una cosa Che un po' Mi dispiace È che Non per discriminazione Siamo le ultime Che possiamo discriminare Vedo tante figure Maschili E si dà poca fiducia All'allenatrice femminile Questo un po' Un po' Mi dispiace Sinceramente E Niente È un po' Così Ultima cosa Che ti chiedo Una curiosità Sulla Lucchese Considerando appunto La partita Con la Pistoiese C'è un ex Della partita Che fa parte Della vostra rosa Che però Non Credo che sia Ancora infortunata Non so se Megliora Giuditta Toppi Giuditta Toppi Non c'è più con noi Ah ecco Allora A questo punto Niente È passata Perugia Nel mercato Invernale Mi era sfuggito Questo dettaglio No ma è stata una cosa Proprio fatta all'ultimo Probabilmente Per questo Non è ancora Anche perché So che Diciamo ancora Non è rientrata Quindi Per questo Probabilmente Non si è sentito parlare Quindi abbiamo Una notizia esclusiva Notizia esclusiva Incredibile Probabilmente Contro di noi Giocherà sicuro Io invece Come notizia esclusiva Poi lascio parola A Francesco Per la sua ultima domanda Era perché Sono venuta a vedere Pavia Lucchese Io Qualche settimana fa Ed è stato fantastico L'episodio In cui c'era Il letto Che ha distrutto La bandierina Dopo dieci minuti Per un fallo laterale Io ero un po' curioso Del perché Mi ha anticipato Tutta questa rabbia Contro la bandierina Perché ne parlavamo Anche con Francesco Queste settimane Allora La ragazza Ha detto che In pratica Aveva subito Due tre falli E non gli erano stati fischiati Però Secondo me Ci voglio aggiungere Mi voglio bene A Marta Diciamo che C'è tanta competizione Di davanti Abbiamo acquisito Anche Fenili C'è Tata Ci sono delle persone Di esperienza Quindi Quando hai la possibilità Di giocartela Dai il tutto per tutto E se sbagli Due o tre palloni Con la sua giovanità Invece di respirare E pensare Che ci sono 90 minuti Un attimo Dai Diciamo che Perdi un po' la testa Però dai Alla fine È rientrata in gara Ha fatto bene Ha segnato È una giocatrice Importante Anche lei per noi Quindi Bene così Speriamo che Riesca a segnare Altre reti Se le merita Che consiglio daresti Magari A una bambina A una ragazzina Che vuole iniziare La carriera Da calciatrice O che Si avvicina Al mondo del calcio Ma Diciamo che Vabbè Io Cosa posso dire Per me il calcio È tutto È vita Io Vivo Dalle due di pomeriggio Alla sera Alle dieci e mezza In campo Quindi il calcio È vita Il calcio È insegnamenti Il calcio È principi Il calcio È stare insieme Condividere Obiettivi Condividere Fatiche È uno sport Completo Che Ti insegna A stare al mondo Innanzitutto Fa bene Ti rende felici Cosa c'è da dire Niente Io Come dicevo prima Spero che non ci sia più Questo scetticismo Delle famiglie Magari ora È più facile Anche avere delle icone Rispetto a prima Cioè Ci sono anche le Barbie Per dirti No Anche di gamma Io ho giocato insieme No Sono cose belle Quindi Magari Ora Anche le famiglie Sono un po' più propense A mandarle Sono felice Iniziate a giocare A calcio Divertitevi La prima cosa La cosa più importante È divertirsi Sempre E questa È la cosa importante Lo vedo io a 35 anni Se non ti diverti Smetti Io a 35 Sono vecchia Non volevo smettere Hanno continuato Dai Continua Non smettere Ho resistito Resisto un altro anno Poi vediamo Vivo anno per anno Però Finché ti diverti Vai avanti Quindi Più che un consiglio È un aspicio Che spero che tanti ragazzi Inizino a giocare a calcio Perché adesso C'è un futuro migliore Diciamo C'è prospettiva Quello che non Non immaginiamo noi Infatti Per esempio Io all'età di 28 anni Ho deciso Volontariamente Di non giocare Più in Serie A Perché Mi si prospettava Un lavoro a tempo indeterminato Da quei tempi Accordi economici Non sapevi mai Se a fine mese Riuscivi a prendere Il rimborso spese Erano più le spese Che i rimborsi Dovevi riuscire A cotivare Il lavoro Lo studio Con Adesso invece Tutta un'altra cosa Diciamo che Non siamo ancora professionisti Ma Le ragazze di oggi Vivono il calcio In modo professionale A differenza nostra Io penso che Innanzitutto Luca Sarebbe stato molto contento Di questa risposta Luca Stavo per dire la stessa cosa Che Diciamo In genere Fa questa domanda Quindi quando rivedrà la diretta Sarà sicuramente contento E Sono d'accordissimo Con quello che hai detto tu Prima ancora Che professioniste Professionali E devo dire Che lo siete Veramente Fatico A trovare Una giocatrice Che non Considero professionale Quello da Anni 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 Poi Professionismo Sì È una questione Legale Diciamo Di forma Esatto Di tutela Di tutto quanto Quello che sappiamo Però L'essere professionale È una questione Proprio di persona E quello Ve lo insegna Sicuramente Giocare a calcio Nelle condizioni Che hai detto tu Prima Quindi con tantissimi Sacrifici E tutto quanto Io chiudo Semplicemente Velocissimo Perché sennò poi Si arrabbia Giustamente Giuseppe Che chiede Giocatore E o giocatrici Preferiti Con quegli idoli Che hai avuto Il mio idolo È Zidane È sempre stato Zidane Diciamo che Infatti Fino a quest'anno Mi sono sempre Portato il 21 Lo dico Per molti È un difetto Per tanti È un pregio Sono juventina Per me è un super pregio Per me no Quindi diciamo Per me no Zidane è stato Il mio idolo E ha perso La testa come Marta Al mondiale Però dai Però dai Quando ci faceva comodo Dai Esatto Priscilla Io ti ringrazio Davvero tantissimo Per essere stata qui Con noi stasera Per aver portato La Lucchese Qui a Calcio Fimile E anche tutta La tua esperienza Quindi davvero Grazie mille Ti facciamo Un granzissimo Bocca e lupo A te La tua squadra Per il resto Della stagione Crepi il lupo E grazie a voi È stato un piacere Un onore Essere qui stasera Con voi Grazie Un onore Grazie mille Grazie mille Grazie mille